La catalepsia è un stato molto naturale. La catalepsia è il nostro più profondo che si tratta in aczione e in qualche modo blocca una parte del nostro corpo, una limba o qualcosa di altro. È utile perché a volte possiamo creare alcune posizioni, per esempio in India abbiamo le mudras, dove dare una stimola al corpo nella nostra posizione e la catalepsia farà questo lavoro più forte. È la catalepsia segreta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.